Oggi c'è la presentazione appunto del 17esimo rapporto sull'utilizzo delle carte di credito e sui pagamenti digitali. È un momento importante che viene dopo anni di crescita. Il quindicesimo, anche il sedicesimo, anche il quattordicesimo rapporto parlavano di trend di crescita costante nell'utilizzo delle carte e della riduzione dell'utilizzo del contante. Ciò nonostante l'Italia è nella parte bassa della classifica europea dell'utilizzo di questi strumenti. Siamo a 25esimi su 28 paesi indagati. Da noi il contante è ancora culturalmente molto utilizzato. Facciamo tanto come industria, come associazioni, come intermediari per incentivare l'utilizzo delle carte di credito e ridurre l'uso del contante. Però questa trend non è mai stata sufficiente a ridurre il gap che ci allontana dagli altri paesi europei. Probabilmente per una questione culturale, probabilmente per altre questioni che sono anche all'ordine del giorno oggi, nelle dichiarazioni sia politiche che industriali del nostro paese. Facendo appunto uno sguardo sulla situazione congiunturale, abbiamo visto la proposta di Confindustria nei giorni scorsi, che parlava di incentivazione dell'utilizzo degli strumenti digitali e anche, come dire, per colpire l'utilizzo del contante. Proprio ieri il Presidente del Consiglio ha parlato di priorità nella riduzione dell'utilizzo del contante a fini diversi rispetto a quelli del nostro convegno, che hanno più, come dire, un obiettivo di business, ovviamente. Lì si parlava di riduzione dell'illusione fiscale. Però, come dire, quando si sente il Presidente del Consiglio che parla di incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali, incentivare le carte di credito, ridurre l'utilizzo del contante, è chiaro che va, come dire, l'incontro di oggi non può che essere temporalmente ben posizionato. Oggi, durante la presentazione del progetto, avremo anche l'amministratore di Pagopà della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che durante l'ultimo periodo è stata anche introdotta la fatturazione digitale, per cui altro percorso, altro passo in avanti verso un migliore utilizzo degli strumenti di pagamento. Io sono convinto che abbiamo fatto tanto in passato, ma non è mai stato sufficiente. Speriamo che sia la svolta. Speriamo che sia la svolta perché da soli noi intermediari e associazioni non possiamo cambiare la cultura del nostro Paese. Quindi la politica, la Confindustria, ma anche, come dire, gli strumenti che vengono messi a disposizione sembrano supportarci, anche per altri obiettivi, ma sembrano supportarci in questa direzione. Io sono convinto che siamo sulla strada giusta. Non so se tutti gli ingredienti che sono messi in questo momento sul tavolo per fare la ricetta siano quelli giusti. Però una cosa è certa, che il piatto deve uscire prima o poi. Quindi auspichiamo che se qualche ingrediente non sarà corretto possa essere sostituito in futuro.